Sergio Silvestrini, parliamo di manovrina del governo, va bene alla CNA oppure c'è qualcosa di sbagliato? No, insomma, nell'insieme una manovrina, come l'era definita, corretta, certo forse non è sufficiente per le ambizioni di un Paese che vuole tornare ovviamente a crescere a tassi che siano in sintonia rispetto ai nostri Paesi concorrenti europei. Qualche segno di inversione del ciclo c'è, lo cogliamo con favore, c'è un clima forse anche meno cupo nel Paese, anche per chi deve investire e tuttavia ancora non è quello che servirebbe ai nostri piccoli imprenditori, agli artigiani che stanno ritrovando in qualche modo prospettive di futuro. La CGL tuona contro la possibilità di riformare i voucher e che cosa ne pensa? Penso che sia stato un grande errore invece di annullare così drasticamente i voucher, dove si fosse convenuto che in qualche piccolissima parte ci fosse stato un eccesso di utilizzo, beh, insomma, se ne doveva limitare l'uso. In realtà oggi noi vediamo che tantissime nostre imprese che ricorrono al lavoro ad oras, giornaliero, non hanno uno strumento utile per poter mettere in regola i lavoratori. Quindi credo che sia stato un errore. Mi auguro, così come il Governo si è impegnato a fare, che in tempi rapidi venga emanato un nuovo decreto che possa sostituire la vecchia legislazione sui voucher. Adesso una domanda sull'assemblea di oggi a Modica. Che cosa significa Modica per le imprese CNA? Beh, Modica è una splendida comunità, una splendida città, un luogo con grandi prodotti enogastronomici. Io penso che la Modica 4.0 debba puntare sul turismo, sulle nuove start-up, sul turismo esperienziale, sulla qualità dei servizi, come gran parte peraltro delle città siciliane. Questa è un'enorme potenzialità che mal sfruttiamo o non sfruttiamo adeguatamente. Quindi credo che questa mia presenza oggi qui ha anche questo significato, di dare un aiuto per quello che sarà possibile, anche nazionale, a tutte queste esperienze locali, comunità che si incontrano, che si confrontano, artigiani che vogliono discutere, parlare, fare affari. E a questo mi pare un bel risveglio, una cosa positiva. La CNA nazionale è qui proprio per dare testimonianza di questa vicinanza.